ragazzi adesso mi concentro un attimo oh 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 ammazza ragazzi no questo sarà porca miseria ho perso via dove è andato no non ci posso credere dai vabbè è andato via era enorme cavolo allora ragazzi ammazza che era grazie a tutti e cos'è a che bello chissà cosa sono ecco di nuovo la telecamera come prima a posto eh stavolta non mi freghi però eh che vizio in fila indiana chissà cosa sono erano molto più luminosi prima eh 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 l'avete visto ragazzi? incredibile incredibile adesso me lo rivedo indifferito eccola l'avete visto? fantastico bello bello non so che cos'era non so che cos'era Autore dei sorrisi